Volevo dire che il centrocampo dell'Inter per me è il più forte che c'è in Europa. Anche il Bidl Real? Eh beh, siamo lì, eh. Aspetta, 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 adesso siamo lì e già abbiamo cambiato, quindi finiamo una posizione. Sì, per me è uno dei centrocampi più forti che c'è. Tu hai detto il. Sì. Il centrocampo più forte. Perché a me sì. Non so più niente. Perché ha 5-6 giocatori di grandissimo livello. Io ti faccio esempio Sensi, no? Sensi che se sta bene, per me è uno dei giocatori più forti che c'è a livello di qualità. Te c'hai giocato, no Borja? Quindi lo sai. E per me Sensi, non essendo titolare di grande livello, è un giocatore di livello, secondo me. Poi dopo, vabbè, sì, Real Madrid, sono grandi squadre, però l'Inter è arrivata in finale di Champions.